Buongiorno, abbiamo oggi voluto concludere, avviarci verso la conclusione dell'anno, portando a conoscenza della collettività le iniziative che noi abbiamo assunto in questi otto mesi di permanenza nel comune di Augusta, anche gli obiettivi che ci proponiamo di realizzare. L'occasione c'è data da quello che poi normalmente avviene a fine anno, che è il bilancio di fine anno, che noi abbiamo approvato e che quindi ci dà l'idea ed è il nostro documento programmatico necessario per poter esvolgere quella che è la nostra attività. Abbiamo conseguito due importanti risultati, che è un equilibrio di bilancio rispetto al fatto di stabilità. Quindi diciamo che siamo tornati in questo momento in una fase di situazione un po' più tranquilla da certi punti di vista, nel senso che almeno operiamo con una certa regolarità nell'aspetto corpabile. L'idea è quella, diciamo questo schieramento così nel tavolo di presidenza, è soltanto connesso alla necessità di dare valore e valenza all'attività che è stata svolta, certamente con il supporto degli uffici comunali, dai nostri sovraordinanti e dai nostri esperti, ai quali devo dire va il nostro ringraziamento come Commissione perché si sono spesi e hanno svolto un lavoro, devo dire, estremamente efficace, creando quello che è il nostro modo operativo di lavorare, il lavoro di squadra. Tutti, diciamo, ci interessiamo di tutto e cerchiamo di portare avanti quelle che sono le esigenze. Quindi ciascuno di loro adesso poi rappresenterà quelle che sono, diciamo, le attività svolte all'interno del settore di competenza. Sicuramente iniziamo con quello che appunto abbiamo detto l'aspetto programmatico è importante, abbiamo anche la musica oggi, quindi diciamo festeggiamo alla grande, inizio dell'anno, e quindi è quello economico finanziario. Con il dottore Pitrola che sicuramente ha fatto un lavoro egregio nel dimensionare e riportare in sesto la situazione del Comune. Per quanto riguarda proprio l'aspetto economico finanziario, infatti abbiamo fatto una ricognizione di quella che è la situazione del Vittoria, una ricognizione dei mutui, abbiamo fatto una ricognizione dei finanziamenti europei e regionali, redatto il piano di riequilibrio, pagato al 31-12 pagheremo tutti i debiti di cassa e abbiamo fatto appunto l'approvazione del bilancio nel rispetto del piano di stabilità, abbiamo iniziato un'azione di risanamento finanziario del letto per pagamento dei primi dei debiti, anche di pacche dei debiti fuori bilancio e abbiamo costituito anche una white list dei fornitori dell'economato. Queste sono le attività che saranno poi meglio nel dettaglio espletate dal dottor Pitone. Abbiamo anche modificato tutto l'apparato burocratico sia per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, anzi attraverso la soppressione delle posizioni dirigenziali, sia attraverso anche una riarticolazione di quello che è tutto l'apparato, le strutture, gli enti, i servizi eccetera e abbiamo anche in corso di, adesso poi ne parlerà meglio, il dottore D'Arrigo, stiamo procedendo all'approvazione del regolamento dei controlli interni, del regolamento della performance, del regolamento anticorruzione e del regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Sono tutti strumenti che contribuiscono, devo dire, cercano di contribuire a far sì che il comportamento dei dipendenti e la struttura sia efficiente, efficace e risponda a quelle che sono le esigenze del dipendente. Abbiamo sicuramente delle criticità sia sul piano finanziario, perché i debiti sono notevolissimi, anche sul piano della struttura burocratica. Indubbiamente c'è il problema dei lavoratori precari, noi siamo in attesa di questo decreto che spero venga emanato in tempi brevi, che ci consentirà appunto di poter approfondire e valutare al meglio la posizione dei precari nell'ambito della struttura del comune, perché hanno un peso e un ruolo determinante. Ci sono anche una carenza di professionalità tecniche che sarebbero necessarie per svolgimento di attività, anche per costituire quello che è la nostra idea di un ufficio unico delle gare d'appalto, che potrebbe essere sicuramente una risorsa e anche un modo per rendere più agevole l'attività di svolgimento delle procedure di gara. Per quanto riguarda poi i servizi sociali, di questo poi approfondirà meglio la dottoressa Cocciuffa. Anche qui abbiamo costituito un unico settore, abbiamo ripreso diversi progetti come quello di Tapsos Megara con la costituzione di un'associazione tra i comuni, abbiamo aderito a questo patto di coesione sociale, patto di azione e coesione sociale che sono i pacchi, abbiamo elargito delle somme pari a 15 mila euro per i disagiati, per le famiglie disagiate sotto la modalità di buoni pasto e abbiamo anche avviato tutto l'iter per l'utilizzo del bene conquistato. Per quanto riguarda gli interventi, abbiamo cercato di assicurare nei limiti in cui era possibile per le risorse a disposizione anche l'assistenza disabile ad anziani che poi riprenderà con il nuovo anno e abbiamo anche provveduto all'accoglienza dei minori non accompagnati. Per i giovani abbiamo in qualche modo, se possiamo dire, utilizzato quello che è lo strumento dell'APQ, del piano dell'accordo quadro sui giovani. C'erano delle risorse a disposizione che erano sostanzialmente dovute ad un finanziamento regionale, l'abbiamo utilizzato per creare dei laboratori, uno teatrale a Palazzo San Biagio e l'altro, diciamo, sociale, chiamiamolo così, di un locale che sarà addivito in una stanza del comune per cui è stato con questi finanziamenti allestito, anche da un punto di vista di arredo, di computer e d'altro e sarà messo a disposizione di associazioni giovanili, come pure questo laboratorio totale. Con queste somme sono state anche acquistate degli strumenti musicali e attraverso un'intesa con le associazioni musicali cercheremo di avviare dei corsi gratuiti per ragazzi anche disagiati per avviarli appunto alla conoscenza della musica. Per quanto riguarda poi l'attività anche di ripristino della legalità e anche di avvio, diciamo, su percorsi di legalità abbiamo avviato tutta una serie di attività, di iniziative con libera, diciamo che abbiamo operato in questo salone diverse volte per avviare proprio sensibilizzare i giovani sul rispetto della legalità. E poi, questa ancora recentemente, con l'associazione Unitevi a noi l'associazione dei genitori che sono venuti a trovarmi l'altra volta, stiamo cercando, abbiamo diciamo così preso contatti per poter proseguire in un'attività che riguarda sia la sicurezza stradale, certamente quindi con gli interventi che sono necessari, ma anche, e in questo sono perfettamente d'accordo con l'associazione, anche un'attività di, come dire, di riportare i giovani a forme di aggregazione più sane, più salutari e per questo, voglio dire, anticipando un po' l'altro, abbiamo pensato anche di mettere a disposizione, credo che sarà questione di giorni, un wifi libero per i ragazzi a piazza Duomo in modo anche da fare convogliare i ragazzi in un punto centrale, quindi evitare che si disperdano e accogliendo anche le richieste che dai genitori ci venivano, con i nuovi impianti di illuminazione con la gara che è stata completata, cercheremo di illuminare le strade, le piazze che sono, diciamo, magari ritrovo di ragazzi, ma che non soffriscono in questo momento di un'adeguata illuminazione. Per quanto riguarda i lavori pubblici, e questo sarà, l'urbanistica sarà poi meglio approfondito dalla dottoressa, dal regnere giusto, abbiamo, diciamo, certamente il nostro obiettivo era quello di ripristinare situazioni di legalità, quindi abbiamo avviato un percorso col quale chiediamo la richiesta di informazione antimafia per tutto, a qualsiasi importo, non solo per i contratti di là da fare, ma anche per quelli che erano in essere e per tutti i lavori che sono in essere. Abbiamo anche cercato di mettere un po' di ordine nell'ambito dei servizi cimiteriali, soprattutto relativamente alla carenza di loculi, con le varie ordinanze di ripristinazione dei loculi e abbiamo anche, dovrebbero avviarsi a giorni, credo, non so se siano stati avviati lavori per la costruzione dei nuovi loculi. Sono oggetto di rivisitazione, quindi sono in corso di esame da parte di organismi tecnici anche le aree PIP, diciamo, è la questione relativa al piano regolatore in generale e quello relativo alla realizzazione di due opere importanti che sono questi lavori che si dovranno rendere necessari adesso per il lungomare Rossini, dove si è verificato questo crollo, spero di, se l'abbia detto giusto, se è lungomare Rossini, quindi faremo dei lavori di assestamento in quella zona. Quindi saranno poi fatti dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici, manutenzione delle strade e manutenzione di edifici comunali. Diciamo che i lavori questi che abbiamo intenzione di effettuare nel prossimo anno, nei limiti in cui potremmo conciliare con le procedure di gara, sarà la realizzazione di un campo di tascio per i ragazzi in una forma molto semplice nella zona delle saline, l'abbattimento della piscina comunale, l'ampliamento della rete stradale sottostante, il campo polivalente che sarebbe sempre sportivo, ma dovuto a un fondo di sicurezza che dovrebbe appunto allargirci il finanziamento. Avremmo pensato anche di riquidificare Piazza da Storga, c'è un progetto, quindi una pavimentazione della strada, il parcheggio a due livelli perché quello rientra nel finanziamento e poi vi diremo nel dettaglio, abbiamo avuto tra tante cose negative, un anticipo di Nino, arrivateci così e quindi queste somme verranno destinate in parte sicuramente per assessare il bilancio, ma una percentuale piuttosto alta, credo in 600 mila Euro, verrà destinata al lavoro di investimento che poi verranno destritti magari più nel dettaglio. Per quanto riguarda l'urbanistica sappiamo che gli elementi di criticità sono dati dalla sanatoria e dalla ricostruzione. Su questi abbiamo lavorato perché prima abbiamo cercato di rivedere tutte le procedure con le quali questi contributi sono stati allargiti e le sanatorie sono state concesse. C'è sicuramente un blocco di attività per quanto riguarda le sanatorie perché purtroppo si è riscontrato questo fenomeno andando a controllare ai fini dell'edificato della sanatoria si è trovato che quelli che dovevano sanare hanno costruito abusivamente sul luogo che doveva essere oggetto di condono. Quindi c'è un abusivismo su un abusivismo da sanare, quindi si tratta di una situazione piuttosto complessa che va necessariamente riconsiderata. Per quanto riguarda l'ambiente, il dottore Valastro ha avuto un apporto veramente prezioso, ci ha consentito di poter avere già pronto il nuovo piano di intervento di smaltimento di rifiuti di cui ci parlerà in termini piuttosto brevi. Non vi preoccupate, in un giro di un'ora dobbiamo finire quindi tutti questi interventi saranno ridimensionati. Abbiamo presentato un progetto per la raccolta differenziata, per la bonifica della discarica di ogni astro, abbiamo in alto una gara per il recupero del percolato e poi stiamo aggiornando i piani di protezione civile. Stiamo recuperando anche ricostituendo il gruppo volontariato comunale e il dottor Valastro si sta impegnando per inserire Augusta nella rete di collegamento con gli altri comuni interessati a problematiche connesse alla presenza di industria a rischio di incidente rilevante. Quindi si tratta sostanzialmente di fare rete anche ai fini della comunicazione di quelle che sono le varie segnalazioni che ne potrebbero derivare. Per quanto riguarda l'informatizzazione abbiamo il dottore Riso che sostanzialmente sta seguendo, ha istituito il nuovo sito web, siamo su Facebook, siamo su Twitter, abbiamo fatto un avvio di procedimenti di dematerializzazione nel senso di evitare l'utilizzo della carta, quindi si parla negli uffici via email, bisogna evitare e soprattutto cerchiamo di inserire un protocollo informatico onde evitare che queste carte continuino a girare, modo che ognuno abbia la possibilità. Abbiamo fatto poi sistemato, adeguato un po' tutti gli strumenti ancora in corso, gli strumenti informatici a disposizione e abbiamo fatto un lavoro, devo dire, di grande analisi dei servizi in rete, di tutte le forniture, anche valutandole sulla base di quelli che erano gli importi delle forniture elettriche che ci hanno dato una situazione piuttosto variegata con la conseguente necessità di rimettere un po' mano in tutta questa situazione, molti contratti infatti sono stati dismessi e quindi con un certo recupero di somme, perché pagavamo delle bollette esose anche per dei servizi che non erano assolutamente previsti o efficienti. Per la Polizia Municipale il Dottore Falconieri ha certamente provveduto in una maniera completa, a cercare di aggiornare e formare il personale, a ricostituire il corpo, ma soprattutto a intensificare l'attività di controllo e ha fatto, e questa era un'attività importante che tu li darà contezza, una attenta ricognizione di tutti i mezzi in dotazione all'amministrazione, la maggior parte dei quali assolutamente inutilizzati. Per quanto riguarda poi gli affari legali abbiamo fatto una ricognizione del contenzioso che effettivamente è consistente e siccome certamente ci vorrebbero stati avvocati, abbiamo avviato questa iniziativa sperando che trovi adesione di un tirocinio legale presso il Comune. Quindi abbiamo chiesto ai ragazzi in fondo a che si sono laureati e che vogliono fare il tirocinio presso il Comune, abbiamo fatto un avviso per far sì che possano svolgere attività presso di noi, in modo tale loro fanno pratiche e noi vediamo di acquisire anche qualche cosa. E questo poi, Dottore Puglisi, abbiamo fatto anche di smesso numerosi contratti di affitto perché anche noi siamo nell'ambito della spending review e quindi dobbiamo cercare di risparmiare. Infine, ma non da ultimo, devo dire abbiamo avuto un'emergenza di sbarchi che chiaramente è un po' esulava delle nostre competenze, che ci è caduta sulle spalle di cui l'ammiraglio, come dire, magna pazzo, posso dire, magna pazzo, l'emergenza sbarchi. Dottore Appipinti ha, con, devo dire, sacrifici e con grande disponibilità gestito in maniera esemplare tutto l'aspetto della gestione di sbarchi con, e qui devo dare atto, devo dire, all'ufficio di protezione civile, all'ingegnere Pedalino, anche ai volontari, perché si sono spesi nella gestione di un servizio che non era facile, soprattutto perché sia per i numeri ma anche per la continuità. Sui numeri poi vi darà il dottore Appipinti. Io ho finito. Non è l'idea di un'autocelebrazione che esula dalle nostre idee, è soltanto l'idea di mettervi a corrente di tutto quello che abbiamo fatto. Noi non siamo arroccati nel Comune, noi ci chiudiamo, cerchiamo di percepire e di capire quali sono le esigenze della collettività, di venire incontro, cercando però di seguire i nostri due obiettivi, ripristino della legalità e cercare di far fronte a quelle che sono le esigenze della collettività. Sicuramente siamo, diciamo, noi crediamo di aver fatto quanto era nelle nostre possibilità per poter portare avanti questi progetti. Non sempre si riesce, non sempre possiamo aver conseguito quello che era nelle nostre intenzioni di realizzare, però abbiamo messo tutto. Quanto meno non ci si può negare, il dottor Casole ci chiama con un'espressione, trimurti. Almeno noi dobbiamo dire che quell'energia connessa ai trimurti, lo intendiamo in questo senso, noi ce l'abbiamo. Quindi in questo voglio, appunto, ne approfitto. In questa circostanza ci saranno altre occasioni per farvi gli auguri per le prossime festività e lascio la parola al dottore D'Arrivo che farà l'ultima, diciamo, la prima esposizione. Grazie.